Ciao a tutti amici di The Room My View, eccomi qua con un nuovo unboxing, come già vi ho detto questo è il mese delle steelbook e sempre attraverso Paramount e attraverso la distribuzione di Plyon Pictures andiamo a scoprire questa steelbook celebrativa del ventesimo anniversario di The Ring attenzione non l'originale giapponese quindi non Ringu, ma The Ring è quello con Naomi Watts, quindi il remake devo dire che è una bella steelbook con questa sovracopertina, quindi questa slipcover con la riproduzione di una vecchia VHS ci dice anche di riavvolgere il nastro e poi ovviamente nella parte posteriore abbiamo tutti i dettagli purtroppo il disco all'interno è lo stesso del passato quindi perdiamo ancora una volta tutti gli extra della vecchia edizione DVD però Paramount non ha previsto purtroppo nonostante il ventesimo anniversario l'uscita di una steel con qualche extra in più devo dire che comunque resta sempre un bel filmetto anche se gli preferisco l'originale però se non l'avete mai visto guardatelo perché comunque merita questo è il disco del Blu-ray, la solita stampa della Paramount e poi abbiamo anche un bel artwork interno come sempre ragazzuoli se vi piace questo video mettete un bel like io vi lascio il link in descrizione se siete interessati a questa edizione se vi fa piacere iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare sempre aggiornare sull'uscita dei prossimi video e noi ci vediamo al prossimo unboxing, ciao ciao a tutti ciao a tutti